Ragazzi siamo tornati insieme e io rido e sorrido perché se si potesse raccontare che cosa non si stanno dicendo nel nostro fuorionda Tiziano Crudeli, Ali, CVS, Fabio Verga Parlavamo di te, siamo freschi allora Porca se stavamo freschi Vabbè me la cerco, va bene La cerchi? Se vuoi te la cerchiamo anche noi Visto che il direttore prima mi citava un parallelismo fatto da mister Allegri che in un qualche modo risponde a Marotta Che paragona l'Inter e la lepre che deve schivare i proiettili E lui dice se c'è una lepre c'è un cacciatore ma se c'è un ladro c'è chi insegue Eh ma Federico cosa è successo? Perché forse non intendeva proprio dire così Chiariamo un attimo questa cosa No Luciano ce l'abbiamo in grafica Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo Così lo facciamo vedere bene a casa Io la conosco perché ho parlato con Allegri Aspetta allora prima leggiamo e poi tu ci spieghi quello che ti ha raccontato Allegri Perché dopo la partita lui va a parlare in questo caso ai microfoni di Dazon Gli viene fatta la domanda prendendo quella metafora che aveva tirato fuori Marotta Cioè quella della lepre che quando è in fuga deve stare attenta ai cacciatori Marotta si riferiva alle polemiche che erano state tirate fuori per gli errori arbitrali e quant'altro Ieri la domanda viene posta ad Allegri e lui risponde così Ce l'abbiamo in grafica Andiamo a leggere allora che cosa ha dichiarato Allegri Lui dice noi cacciatori dello scudetto Beh se c'è qualcuno davanti dietro c'è chi insegue È un po' come il gioco guardia e ladri Dove i ladri scappano e le guardie rincorrono Ovviamente in questo periodo di polemiche arbitrali In cui tutti ce l'hanno con l'Inter Dire che i ladri scappano e le guardie rincorrono ha suscitato un despaio clamoroso È braintendibile diciamo così Scusa Ha fatto bene È vero che può aver suscitato qualche cosa di Ma è pure clamoroso a livello di Barzelletta Vi posso giurare che siccome io ho una certa confidenza con Allegri Ho parlato con Allegri ma io non volevo mica intendere quello Volevo intendere più o meno Perché ha ragione Marotta quando dice Quando dice che l'Inter è adesso il lepre e dietro praticamente È giusto quello che dice Attenzione Ed è anche una cosa giustissima Quando racconta Probabilmente l'Inter ha avuto dei favori arbitrali Ma non sono favori sono sbagli Perché io che ho provato queste cose qui Con le quali è nato Calciopoli Io vi posso dire che certe volte Un dirigente di una società di calcio Di quel tipo lì Prega che non succeda niente Che vada bene la partita Che non gli diano niente Perché prestate attenzione Gli arbitri che vogliono diventare internazionali Quelli che sostanzialmente ci tengono ad arbitrare Queste partite grandi perché con queste possono diventare internazionali Se c'è mezza cosina così La danno grande alla società che sta a prima classifica Questo è quello che bisogna tenere in considerazione Allegri gli è venuta male magari Perché collegata a quello che ha detto Beppe Marotta Ma ha ragione Marotta nel dire quello Allegri si è limitato a fare una specie di discorso Ilari Tanto per essere chiari E soprattutto l'ha preso male il solito Moratti Il quale Moratti praticamente ha fatto subito delle dichiarazioni Dicendo che il campionato loro non l'hanno potuto vincere Quando sostanzialmente era manomesso Moratti non conosce che quando lui comprava Taribo West Io compravo per esempio Treseguet Quando lui comprava Can Sucur Che non faceva neppure il bagno nello spogliatore per religione Io compravo Zidane Sempre un passo avanti Ha cambiato praticamente in 12 anni 25 allenatori e io 3 Questo praticamente però gli viene spontaneo dire Ma noi, ma noi, ma noi E certe volte le bugie a furia di dirle diventano verità E allora sapete cosa dica Moratti Che lui praticamente è andato Non lui personalmente ma c'è andato qualcuno dell'Inter A rubare alla motorizzazione di Latina documenti falsi Per fare una patente falsa Per far diventare recoba Estracomunitario e comunitario Quindi ci sono che praticamente il processo contro Gian Felice Facchetti Ha raccontato nelle sentenze Che Facchetti faceva lobbying con gli arbitri E questo praticamente è tutto dire E il procuratore federale Palazzi Ha raccontato che l'Inter è una società che rischiava più di tutte Per il comportamento illegale del suo presidente Questo loro non lo conoscono Lo disconoscono anzi Perché è un passato che non gli piace Io adesso che ritengo di guardare una società in base agli uomini Che la guidano Io vi dico che non è che sono tifoso Ma sono simpatizzante di quello che fa Beppe Marotta e Ausilio Come sono simpatizzante di quello che fa Allegri e Giuntoli e compagnia Quindi voglio dire Ci vuole un po' di buonsenso Nell'affrontare queste cose Perché attenzione Ve l'ho detto prima e ve lo ripeto A fuori di dire queste bugie È nato Cacciopoli E io e nessun dirigente della Juvenza È andato assieme a Moratti A presentare il libro di Zanetti A presentare il libro del PM Narducci C'è andato Moratti e c'è andato Zanetti C'è andato praticamente Auricchio Erano quelli che dovevano giudicare Quindi evidentemente loro avevano più accordi con questi che non con noi E quindi avevano già stabilito chi doveva essere penalizzato Se andate a domandare quali sono i reati commessi dalla Juventus in quel tempo Non vi sanno dire niente Perché? Non vi sanno dire niente Perché la Juventus non ha commesso reati Lo dice il processo sportivo Lo dice anche il processo ordinario Dopo 170.000 telefonate intercettate Quando racconta che praticamente c'è stato un reato a consumazione anticipata Il reato a consumazione anticipata Vorrebbe per esempio dire che Gianluca vuole andare a letto con Mario Limorroe Però non ci va perché non può E allora per il PM è già un reato a consumazione anticipata Ecco, questo è il quadro della cosa Io però vorrei tornare con Maximo Con Maximo Con Max Gravati Alle dichiarazioni che sta a letto Federico Bertone Perché effettivamente è stato un po' travisato, allegri Fa sorridere questo paragone Massimo Fa sorridere chi ha la coda di paglia Ah Se uno ha la coda di paglia Allora Bravo Massimo Ecco sì Questa cosa Se io sono tranquillo Nel mio È una roba da far ridere questa Io l'ho vista in diretta Perché Sono qua a Miami Erano le Penso le 5 del pomeriggio Ho acceso Fortunatamente Riesco a vedere da zone Riesco a vedere Sky Ho visto l'intervista e mi è sembrato proprio perché c'era la ragazza da studio che faceva la domanda E gli ha fatto la domanda in riferimento al cacciatore Se lei si sente cacciatore Certo Ma lui poi l'ha presa alla larga Ma io non l'ho trovato Io intanto mi fido di quello che dice il direttore Una delle poche volte che mi fido di lui No scherzo 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 No vabbè perché io Sono stato testimone anche di Di cessioni Dove il giorno prima diceva Ma come Mica ma va Non lo mando No 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 Non lo mando via Il giorno dopo era già dall'altra parte Quindi Ah quello è un jeff Come nel poker No vabbè Ma quello Era un maestro in quello In quello era un maestro il direttore Ragazzi Guardate che io Io sono sempre e solo orgoglioso D'aver lavorato per Per Luciano Moggi E per la Juve di quel periodo Perché io Ho solo imparato tantissime cose Sia da lui Che dall'ambiente Juve E per me Lui rimane E rimarrà sempre Un qualcosa di inimitabile Perché Questo mi fa diventare rosso Secondo me è stato uno No vabbè però è stato uno dei Secondo me Dei più grandi Conoscitori di calcio Dell'ultimo secolo Perché se le mettiamo insieme Lui All'Odi Sono questi Ma vedi Massimo Lui si è veramente Vedi Massimo Io lo Io so come sono andate le cose E non ho voglia di tornare a polemizzare Perché No no Infatti Però Quello che diceva Gianluca prima È che tutte quelle tonnellate di merda Che sono Sono piovute addosso Alla famiglia Moggi Poi sono piovute di rimbalzo Anche su coloro i quali Erano i Gli scudieri Non solo del papà Ma anche del figlio Perché io sono stato Legato tantissimo E sono tuttora legato Da una Da un'amicizia Ormai Trentennale Anzi Il direttore Io lo conosco Da quando avevo 16 anni Quindi immagina Però Però La verità è che Tornando a quello che mi hai chiesto Io credo che sia veramente Stata neanche una battuta Cioè io penso che Gli sia venuta fuori così E Sì come paragone Se qualcuno si è risentito Se qualcuno si è ritentito Vedi che è la coda di paglia È vero è vero Scusa Gianluca sei d'accordo? No Sono d'accordissimo Con quello che dice Massimo Ma io Anche se l'avesse detto Volontariamente Allegri Ma io sarei stato contento Sapete perché? Come provocazione Ma no Perché la Juve Negli ultimi tempi Non si difende più No Aspetta Gianluca Ti devo dire una cosa Lui ha fatto bene A non dirlo Perché da ora in poi Ma io ho detto Io ho messo in sé Le provocazioni Praticamente vanno lasciate da parte Direttore Io ho detto un condizionale Io ho detto Se fosse anche vero Che avesse voluto dirlo Per fare una battuta Io sono contento Perché la Juve Negli ultimi anni Accusata sempre In continuazione anche di cose Quando non succedono Non si difende mai Finalmente qualcuno Che potrebbe Dir le cose come stanno Fare anche qualche battutina Allora hanno la coda di paglia Come dice Brambati Hanno tutti la coda di paglia No aspetta ma Gianluca Arriviamo Dire le cose come stanno È impossibile Perché dovresti mettere insieme Tante persone Che praticamente Sono fuori Lasciamo perdere È un po' una roba Sì è una cosa A porre toglie Quando Zaccone L'avvocato difensore Ha detto Mandateci in B Sai che significava Certo Significava incolpare I propri dipendenti Attenzione Assolutamente Poi gli è andata contro La sentenza Perché la sentenza Di quel processo Ha detto Campionato regolare Nessuna partita alterata Io mi ricordo benissimo Ero in questa trasmissione Il periodo in cui eravamo In Serie B con la Juve Era in pieno Mi ricordo bene Cosa si diceva Quindi allargare il campo È un po' difficile Mi ricordo bene Restando sull'attualità Direi che innanzitutto Se Allegri lo ha dichiarato A posteriori Bisogna credergli E ritenere Che non abbia voluto Fare una battuta Ma che abbia appunto Risposto alla metafora Della lepre Dei cacciatori Con un'altra metafora Se Se invece ha voluto Fare una battuta Ha fatto una battuta Spettacolare Che resta nella storia Quasi da Mourinho Posso dirlo? Ma infatti Sì quasi da Mourinho Ma arriva un altro Mourinho Ma no ma questa qua No 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 Questa qua Involontariamente È stata una battuta eccezionale Cioè è una cosa che Ovviamente immagino Ai tifosi giuventini Faccia goder Sicuramente Ai tifosi interisti Non piace per niente A chi la vede dall'esterno È una battuta Se Se l'ha voluta fare È una battuta Spettacolare Perché riprende Tutte le recenti polemiche Senza scadere Nell'insulto Nell'aggressione O nell'attacco La lascia lì Col mezzo sorriso Da Toscano Quindi è una di quelle cose Che adesso Sicuramente Tutti Per restare Sull'altra sponda Della parte In causa Sponda interista Tutti si ricordano Ancora La famosa conferenza Stampa d'arrivo Di José Mourinho Col suo Io non sono un pirla E tutto quello Che ha significato E che è rimasta Come battuta storica Beh Questa È comunque una battuta Che rimane Su quel livello lì Ma vuoi sapere Massimo Fabio una cosa Lippi Sì Lippi Massimiliano Allegri Che era contestato Con questa battuta Ha riconquistato anche quelli Che Sicuro Che dicevano Sicuro Sicuro Anch'io Questa dinamica Appunto divertente In un qualche modo Anch'io non sono un pirla Grazie Ma questo noi lo sapevamo Forse Fabio Verga Non è d'accordo Ma al di là di queste cose No no invece io sono Lo so che lui è un pirla Lui Fabio Verga Io no Eh Ma no invece Fammi un commento Su guardie ladri Lepri e cacciatori Bella battuta Dai Dammi un po' di soddisfazione A me mi piace tanto Assai parecchio Come quando guardo te Grazie Tu a me mi piace Tanto assai parecchio Mi fa piacere Anche questa battuta Grazie Va bene Allora Va bene ragazzi Ehm Tra poco Parliamo sempre di Allegri Ma in chiave Di sorpasso Inter Perché dico questo Vi voglio mettere la pulce nell'orecchio Non lo faccio io Lo fa Federico Bertone Ma poi non mi facciamo ascoltare le parole Ve le facciamo ascoltare dopo la pubblicità Però Federico È interessante L'argomento Entrare Appunto nell'ottica Inter E Juventus Dermi d'Italia E non solo Beh sì assolutamente Anche perché Col fatto che adesso C'è la Supercoppa E quindi l'Inter Questo turno di campionato Non lo gioca O meglio Lo recupera Più avanti Però cosa potrebbe succedere Potrebbe succedere Che la Juventus Facendo sei punti Nelle prossime due partite Che ricordiamolo Sono contro Lecce e Empoli Quindi Sulla carta Sono due partite Che la Juve Può vincere La Juve A quel punto Arriverebbe Allo scontro diretto Del 4 febbraio A San Siro Inter-Juventus Davanti in classifica Poi è chiaro Che l'Inter Avrebbe il recupero Da fare Però ce l'avrà A fine febbraio Il 28 febbraio Tra l'altro Con l'Atalanta Quindi anche una partita Scomoda Non semplice Insomma Per la Juve Al di là Poi delle smentite Di rito Perché Allegri Continua a dire No Noi guardiamo solamente La distanza dalla quinta Pensiamo solamente A tornare in Champions Però Nell'ambiente Insomma Il sogno scudetto Ormai non si nasconde Neanche più Se voi ascoltate Le dichiarazioni Dei giocatori Sono diverse Rispetto a quelle Che fa Massimiliano Allegri Mi dicevi però Che lo ascoltiamo Più avanti Questo passaggio Ok E dunque Rimanete qui Due minuti Federico Ci ha rappresentato Super benissimo E allora Sentiamo Allegri Su questo sorpasso Inter Juve Juve Inter Io non sono abituato A A Pensare A fare tutte queste robe Se il passaggio All'Inter Non se il passaggio All'Inter Tanto Bisogna giocare con il Lecce Che è una partita Complicata Perché il Lecce È una squadra Tosta Che non concede Prendi pochi gol E soprattutto In casa da loro Una volta usciti lì Poi prepareremo La partita con l'Empoli Però intanto Pensiamo a quella con il Lecce Facciamo una roba alla volta Perché tanto Anche perché Non è che possiamo cambiare Possiamo giocare tre partite In una Ne va giocata una alla volta Quindi bisogna stare Molto sereni Abbiamo giocato una partita Abbiamo vinto Bisogna goderci questa vittoria E ora domani Pensare a Lecce Che deve essere la normalità Insomma Un passo per volta Un passo per volta Allora io riparto da Gianluca Per le ovvie ragioni La tua fede Come segui da vicino La Juventus Ti ritrovi? Sei d'accordo Con quanto dice Il mister Allegri? Sì Io sono d'accordo Ultimamente Ha ragione Anche il direttore Io ero molto critico Su Allegri È per quello Che intalzavo io Non è che adesso È diventato il mio Allenatore ideale Della Juventus No Quello no Però ultimamente Devo dire Che ha messo A posto la squadra Finalmente cominciamo A vedere una struttura Uno scheletro di squadra Che è sempre quello Quindi ha trovato I giocatori giusti Messi in una posizione giusta Un modulo giusto E i risultati si vedono Tra l'altro a gennaio Sono arrivate anche un sacco di partite Con fior di gol Con tanti gol Quindi io Quello che dice lui Però ha ragione Non bisogna dare eccessiva importanza Adesso A dire di qui Al 4 febbraio Una partita alla volta Ce ne sono due Prima c'è Lecce Poi ci sarà Lempoli Ha ragione lui A dire che Lecce È una partita non facile Giocata là Con una squadra comunque Ben strutturata Poi si vedrà Lempoli E poi il 4 febbraio Ci sarà lo scontro diretto Però speriamo di essere Col punticino davanti All'Inter Perché poi ci sarà Da recuperare Il 28 febbraio È lungo Non si sa cosa può succedere È lontano Esatto Credo che sia d'accordo Vega Ma non capisco La sua gestualità No no Sono molto d'accordo Innanzitutto Credo che Allegri Vituperato Fino Forse a ieri Adesso Forse gli si dà Un po' più di credito Gli vada riconosciuto Un merito indiscusso L'Inter L'Inter di quest'anno In quanto a risultati E punti È sulla linea Del Napoli Dell'anno scorso Punto più Punto meno È sulla linea Del Napoli Dell'anno scorso Ma mentre l'anno scorso A questo punto Napoli ha praticamente Già vinto lo scudetto Con un divario Enorme dalla seconda Quest'anno Lo scudetto è ancora Estremamente in bilico Non per demerito Dell'Inter Che ripeto Sta facendo più o meno Quello che ha fatto Il Napoli Per merito della Juve Per grande merito Di questa Juventus Che è solo due punti sotto Solo due punti sotto E ha una squadra Che ha un livello Di risultati E soprattutto Un livello Di differenza reti Tra gol segnati E gol subiti Che è pazzesco 20 gol Erano 20 gol Ma mancavano ancora i tre gol Era il riferimento Prima che si giocasse Questo ultimo Ha una differenza reti Pazzesca Eppure la Juventus È ancora due punti E aggiungo Un ultimo elemento Psicologico E quindi su questo Bisogna vedere poi Come lo gestiscono Gli allenatori Le società E lo spogliatoio Rispetto al passato La Juventus 2023-2024 Non ha niente da perdere Perché se Il campionato Va a finire Con l'Inter Che vince lo scudetto E la Juventus Che arriva a seconda Ancora ancora Si dice Brava la Juventus Che ha fatto più Di quanto si aspettava All'inizio Se viceversa Dovesse succedere Che la Juventus Scavalca l'Inter La Juventus Non ha niente da perdere L'Inter Se non è in testa Al campionato Crisi nera A meno che non vinca La Champions A meno che non vinca La Champions D'accordo Polemiche La squadra Aninzaghi Ha buttato via Lo scudetto Eccetera Eccetera Quindi La pressione psicologica In questa fase È tutta sull'Inter Che non può sbagliare Mentre la Juventus Paradossalmente Se arriva a seconda Ha già fatto comunque Più del suo dovere Allora Max L'Inter non può sbagliare Poi arrivo anche Naturalmente Sia da Tiziano Che da Luciano L'Inter non può sbagliare Ma secondo te A livello psicologico La possibilità Che qualora la Juventus Dovesse vincerle tutte Con il fatto che L'Inter Dovrà recuperare La partita con l'Atalanta Il 28 febbraio E quindi La Juventus Può avere appunto La possibilità Per stare Davanti all'Inter Quasi un mese Può impattare Sei andata troppo avanti Il calcio Cambia in mezz'ora In un minuto Sei già andata Il 28 febbraio Io mi riallaccio Però a un discorso Che ha fatto E voglio fare un po' Di polemica Su questo Io mi riallaccio Su quello che ha detto Fabio adesso Allora 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 anche se una squadra Ammazza il campionato Le altre squadre Possono Possono stargli dietro No perché Io ho sentito L'anno scorso Allenatori Che Diciamo così Per giustificare La propria Annata E il loro Mancato Eventuale Scudetto O lotta Scudetto Che l'anno scorso È mancata Clamorosamente Perché c'è stata Solo una squadra Prendevano sempre In esame Ah ma il Napoli Ha ammazzato il campionato E quindi E quindi è giusto Che abbiamo vinto loro Anche se stavano dietro I 12 13 15 punti Allora si può Trovare All'interno Di un campionato Dove c'è una squadra Che sta facendo Qualcola di straordinario Che quest'anno È l'Inter E l'anno scorso Era il Napoli Una Competitor Che gli sta dietro Si può Perché a sentire Fino a sentire L'anno scorso L'anno scorso Non si poteva L'anno scorso Chi ha fallito Tra virgolette Il campionato Ok La conquista Del campionato La lotta Per andare Per andare a conquistare Prendeva sempre Come scusa Ah ma il Napoli Ha ammazzato il campionato Ha fatto un qualcosa di straordinario E quindi E quindi è giusto Che noi stiamo indietro Di 15 punti Questa è una domanda Che voglio fare A tutti Ti faccio rispondere Da Tiziano E da Luciano Che cosa Alla domanda Di Max Vale a dire Appunto C'è la possibilità Che l'anno scorso Le persone si giustificassero Con il fatto Che ormai Il campionato Fosse chiuso Perché il Napoli Non le persone Gli allenatori Gli allenatori Gli allenatori Giustificavano La mancata lotta Competitività O la mancata Vittoria Dello scudetto Perché il Napoli Aveva fatto qualcosa Di straordinario Ma quest'anno Sta facendo qualcosa Di straordinario L'Inter Eppure c'è una squadra Dietro Quindi Anzi Ce ne sono due Perché io dico Che il Milan Il Milan Non è ancora fuori Assolutamente Assolutamente Al mio modo Di vedere La Juventus È la dimostrazione Che una squadra Una buona Squadra Può diventare Un'ottima squadra Se gestite In una certa maniera Anche Tatticamente La differenza Se noi guardiamo Strettamente Le cifre La differenza Di due soli punti In realtà L'Inter Ha segnato 49 gol E la Juventus 32 17 gol Di differenza È la difesa Adesso Che conta molto Perché L'Inter Ha subito 10 gol La Juventus 12 Entrambe Hanno perso Una partita Guarda caso Col Sassuolo Solo che La Juventus In quella partita Persa Ha preso 4 gol Perché Comunque La solidità Del reparto Arretrato La Juventus La Juventus Scusate Sarò ripetitivo Dopo la sconfitta La quinta giornata Col Sassuolo Ha disputato 15 partite 10 Le ha vinte Per 1 a 0 Segnando un solo gol E difendendosi E poi E poi le altre Le ha vinto La competitività Nei confronti Ha in gruppo Non c'è dubbio Poi guardate E io non so Chi l'ha detto Qui Severga o Tiziano L'Inter Ha fatto miracoli Un campionato Come praticamente Poteva fare il Napoli L'anno scorso A livello di punteggio Eppure la Juventus Sta lì attaccata L'allenatore tuo E suo È stato super criticato Durante Questa attività Praticamente Che ha permesso Alla Juventus Di essere seconda Solo i due punti Che volete che vi dica Una domanda Gliela voglio fare Al direttore Però Perché ha fatto La faccio a lui Perché ha fatto Ha disegnato Nella sua carriera Diverse squadre Oggi come oggi Il fatto che la Juventus Non intervenga Sul mercato Anche a livello numerico Perché a livello numerico Sono entrati Diciamo A far parte Della rosa Dei ragazzi Che all'inizio dell'anno Non c'erano Come Nicolussi Caviglia E lo stesso Indiz Eh Però sono usciti Loro malgrado Eh Pogba e Fagioli Quindi oggi A livello numerico Sei Ti sei ristabilito A livello numerico Con questi due ragazzi Però magari Non A livello Qualitativo Soprattutto Secondo me Con Nicolussi Caviglia Oggi Non intervenire Sul mercato È una scelta Giusta Eh Perché non vuoi Diciamo così Fare qualche danno Al gruppo O è una scelta Sbagliata Perché poi Un domani Ti potrebbe servire Proprio a livello numerico Un qualche giocatore Di personalità Un qualche giocatore Che è Un giocatore Che può riempire Quella zona di campo Dove magari C'è poca qualità Come il centrocampo Massimo Lì è stato preso Dialò E questo penso Che sia Il giocatore Che potrebbe servire Alla Juventus Dietro Perché è un ottimo giocatore Bisogna vedere anche le condizioni Con cui viene a Torino Anche perché ha avuto Un incidente abbastanza brutto Che praticamente Lo sta facendo riprendere Gradatamente Io devo dirti una cosa Nel momento in cui La Juventus è competitiva Con i ragazzini Che c'ha E questo è un titolo Già di merito Perché praticamente Può essere un fatto Che è di necessità Cioè fa di necessità Virtù Perché non può Spendere soldi La realtà Ha creato un gruppo Che basta parlare Con i giocatori Per capire la voglia Che hanno di vincere Se parli con il turco Praticamente vorrebbe Spaccare le montagne Eppure è un giocatore Del 2005 E gli altri La stessa cosa Quindi c'è una volontà Inculcata nella testa Di questi giocatori Che In mischiare Praticamente qualcosa Di importante Non si può A gennaio Anche perché Bisogna prendere Quello che c'è Ma in mischiare Qualche altro giocatore Che vada a invadere Dei ruoli Che praticamente Possono essere importanti Come il centrocampo Non è ritenuto opportuno Perché con questi giocatori Giocatori qui Considerando l'arco Di campionato Che è stato fatto E la qualità Del campionato Praticamente hanno dimostrato Di essere all'altezza Delle migliori squadre E c'è un fatto importante Da valutare Che l'Inter È una società vecchia È una squadra vecchia Cioè ha giocatori Che oltrepassano i 30 anni Nella maggior parte dei casi Questa è una società Pimpante In piena evoluzione Con caratteristiche Con i giocatori Dell'anno scorso Ma con una testa diversa Da quella dell'anno scorso Perché evidentemente L'inserimento di Giuntoli La coesione che c'è tra Giuntoli e Allegri Il rapporto che esiste Tra i due E il gruppo giocatori È diventato Un qualcosa Di armonico quasi vorrei dire Che nel calcio Non si può neppure dire tanto Però Che può portare Poi a quei risultati Il fatto stesso Che i giocatori della Juventus Si abbraccino convinti Questo è un fatto Che può esistere Nella maggior parte dei casi Nelle società Che Sono Inferiori E vincono delle partite Magari sperate Si abbracciano tutti La Juventus Adesso È un gruppo Che fa proprio del gol Una cosa Si Ci tiene esattamente E quindi è difficile Anche l'inserimento Di un qualcuno Che adesso poi Di qualità non c'è Ecco per essere chiari E proprio sui giocatori Si è pronunciato anche Mister Allegri Federico In particolare Su tre giocatori Nello specifico Sì Insomma I grandi protagonisti In queste ultime partite Sono le punte Che sono tornate A far gol A segnare Federico Scusa un attimo Attenzione Attenzione Nel calcio Bisogna stare attenti Perché Le ultime due partite Sono state fatte Con il Frosinone E l'ultima Col Sassuolo Guardate voi Il Frosinone In due partite Ha preso 5 gol Dall'Atalanta E 4 da noi Per cui il problema Di fondo Bisogna guardarlo Con attenzione E la partita E la partita Di domenica A Lecce E la partita Di domenica A Lecce Che non permetterà Alla Juventus Di spumeggiare Come ha fatto Con queste due squadre Qui Se guardate il Sassuolo Tatticamente ieri Io ho visto la partita In una maniera Un po' particolare Non ci sanno difendere Vanno all'attacco Tutti quanti Ecco perché subiscono 40 gol Questo è il punto No ma in realtà Luciano Questo era un discorso Introduttivo Alla clip Di Allegri Perché ieri Gli è stato chiesto Insomma un parere Sugli attaccanti Su Blauvic Che da qualche settimana Dopo tante critiche È tornato a fare gol Ha ragione Il Diz Che sta stupendo Insomma davvero Clamoroso Il suo impatto In prima squadra E lo stesso Chiesa Per giocare tecnicamente E poi i gol Li fa perché L'ha sempre fatti Il Dugia Ha passato un momento Sicuramente Complicato Perché fisicamente Non stava bene Ora sta bene In fiducia Lavora molto Per migliorare Ma soprattutto Sta È un 2000 Ha 23 anni Entra le 24 quest'anno Quindi ha il tempo Ancora davanti Per raggiungere Quella maturità necessaria Per giocare Per gestire Per giocare E gestire Tutte le partite Chiesa sta bene Fisicamente Sono contento Per lui Perché abbiamo bisogno Di lui Del miglior Chiesa Come abbiamo bisogno Di tutti gli attaccanti Ora rientrerà anche Ken Per quanto riguarda Il Diz Il Diz Ha fatto delle buone giocate Ha avuto anche Una situazione favorevole Dove poteva far gol Però è un giocatore Che Credo che Avrà perso un pallone In tutti i palloni Che ha giocato Quindi è un giocatore Giovane Ma Soprattutto di grande tecnica Beh insomma Marsolo Ottime parole Per questo trio Gli attaccanti Bianconeri E un aggettivo Che sottolineava Il direttore Mentre ascoltavamo La clip Era E sereno Vlauvi Ci ha ritrovato La serenità Che è un po' Quello che dicevamo Prima Tutta la squadra Tutta la squadra L'anno scorso È stata demotivata E per primo E per primo Attenzione Io ne ho fatto Una colpa D'Allegri Perché quando Ha giocato La Juventus Ad Impoli E ha perso 4 a 1 Nel girone Di ritorno Lui è andato In televisione A fare una dichiarazione In cui ha detto Ci vogliamo massacrare A mezz'ora Dalla partita Ci hanno tolto 10 punti Mi sembra 10 punti Questa è una Dichiarazione Che ha demotivato Lo spogliatoio La Juventus Quattro gol Questa Juve Questa Juve qui Ma come atmosfera È una grande esperienza Si è portato Si supera tutto Si supera tutto E questa La Juventus E visto che sei lì Puoi anche vincere lo scudetto Ragazzi ci fermiamo Due minuti Allora noi dovevamo Ripartire dall'aneddoto Di Massimo Brambati Max Stiamo tutti aspettando Questo tuo terzo aneddoto Ti puntata No va bene Lo scouting Praticamente io Quando sono stato Sono arrivato alla Juve Luciano Moggi Mi ha preso come osservatore E quindi ho fatto parte Di un team A cui c'era capo Franco Ceravolo Uno dei più bravi Che ho incontrato E poi all'interno C'erano i Di Marzio I Beppe Furino Insomma gente Anche conosciuta Nell'ambiente del calcio Ma quello che ricordo In modo particolare Era E che Ceravolo Si raccomandava sempre Nelle relazioni Che facevamo Sui calciatori Che ci mandavano a vedere Era che il direttore Odiava Nella maniera Più assoluta Il fatto Che gli si potesse Scrivere Nella relazione È un calciatore Da rivedere È un calciatore Con prospettiva È un calciatore Lui ti diceva Lo vai a vedere Una, due, cinque Io ti mando a vederlo Anche dieci volte Ma tu alla decima volta Mi devi dire È da Juventus O non è da Juventus Non mi cominciare a scrivere È da rivedere Lo proviamo a vedere La prossima volta Ha delle prospettive Può essere migliorabile E quindi noi Dovevamo stare attentissimi A non scrivere Queste cose Perché se no Si incazzava di brutto Vabbè Poi faceva anche Io dico Rivedo voi Poi faceva anche Le imboscate Perché mi mandò A vedere Curani A Stoccarda Per tre mesi Io ero sicuro Che ormai la Juventus Avrebbe preso Curani Tutti quanti Anche il figlio Che dicevano che E io Mi ricordo Che ero in macchina Col figlio Accendemmo la radio E si sentì Che la Juventus Aveva Praticamente Ingaggiato Ibrahimovic Ma io ero andato Tre mesi A vedere Curani E per tre mesi Siccome Anche gli altri Scouting Capivano Che io andavo A vedere un giocatore Inter Milan Napoli Mandavano Gli osservatori A vedere anche loro Questo Curani Quindi lui Cosa faceva Distraeva Io ero praticamente Lo specchietto Della Lodole Ero un povero Pirla E andava a vedere Lui mi usava Capito Mi usava No Non è vero Massimo Tu non eri lo specchietto Però in quel contesto lì Mi servivi Perché praticamente L'attenzione Fosse spostata Verso altri giocatori Per prendere uno Senza avere le aste Perché con i giocatori Certe volte si hanno le aste Ma ti dirò di più Prendere Ibrahimovic Non è stato certamente facile Sai che abbiamo dovuto fare Alla fine Siccome c'era Van der Warte Capitano Abbiamo fatto litigare Ibrahimovic Col presidente La società Ibrahimovic ha detto Ottenete lui Ottenete me Deciso dall'Aex Di tenere Van der Warte Io ho preso Ibrahimovic Ma non è stata una cosa facile Nonostante Che avessimo posto L'attenzione Non vera Su altri giocatori Ecco a proposito di Comunque Ti sei salvato Max A proposito di giocatori Del mirino C'è un giocatore A parametro zero Del mirino Dell'Inter Federico Bertone Sì Due a dire il vero Perché Insomma Anche Zielinski Ufficialmente Ancora un giocatore Del Napoli Però Da tanto tempo Ormai si dice Che l'Inter Li abbia messo Praticamente Lo abbia Lo abbia acquistato E di fatto è così Ed è così anche con Taremi L'Inter è vicinissima A fare questo doppio colpo A parametro zero A giugno ovviamente Non adesso Però a giugno Potrebbero arrivare all'Inter Sia Piotr Zielinski Che Medi Taremi Taremi 31 anni A luglio ne compie 32 L'Inter Gli ha proposto Un contratto biennale Con opzione per il terzo Uno stipendio Attorno ai 3 milioni di euro Più bonus a stagione Il giocatore Ha accettato Vuole soltanto L'Italia Vuole l'Inter Tra l'altro Ricorderete Fu a un passo dal Milan Nell'estate scorsa Il trasferimento saltò A poche ore Dal gong Del calciomercato Per le commissioni Che vennero ritenute Troppo alte Da parte degli agenti Tra l'altro Lì ci fu una storia strana Perché Non si capì Il Milan Secondo il presidente del Porto Trattò con gli agenti sbagliati Insomma Un intrigo di fine mercato L'Inter invece Ha ottenuto il sì Del giocatore Adesso sta provando a chiudere Così come dovrebbe chiudere a breve Per Zielinski Ufficialmente Un giocatore Non può firmare Per un'altra squadra Fino al primo di febbraio Prima deve passare Tutto il mese di gennaio Poi se sei in scadenza di contratto Puoi accordarti con un'altra squadra Proprio a livello ufficiale Zielinski 29 anni Contratto triennale anche per lui 4 milioni e mezzo di euro all'anno Una cifra che il Napoli Non gli ha mai voluto offrire Anzi il Napoli gli ha offerto Un contratto a ribazzo Il giocatore che l'estate scorsa Aveva rifiutato un trasferimento In Arabia Si è sentito offeso Tradito E quindi ha deciso Di accettare l'Inter Insomma Continua quindi Questa strategia di Marotta Di andare su giocatori Over 30 O come nel caso di Zielinski Molto vicino ai 30 Però a parametro zero Magari ingaggi alti Però nessuna spesa di cartellino Per cui È una strategia che fino adesso Sta pagando Ma è in abilità questa Riuscire a catturare I giocatori buoni A parametro zero Certo Io riconosco a Beppe A Ausilio Una certa Quando ho detto prima Che l'Inter è una società Nella gran parte vecchia A differenza del Mila L'ho detto perché Praticamente ci sono Oltre trentenni In abbondanza E quindi Il fatto stesso Che lui Faccia ricambi Con quelli Che migliorano Sicuramente a Rosa A parametro zero È un titolo di merito Perché Va beh che Ha in mano una carta Che si chiama Inter Dove tutti vorrebbero andare Come nella Juventus E come nel Mila Però è sempre difficile Perché le aste Ci sono dappertutto Tiziano Ti dà un po' fastidio Che l'Inter Si è avvicinata a Remy Visto Quello che diceva prima Federico Vole a dire Che visto L'anno scorso Tu eri Sai cosa mi ha dato fastidio In maniera Proprio veramente Mi sono incavolato Cialanoglu Cioè Non è concepibile Lascia stare Lascia stare Altri giocatori Che sono andati via A parametro Dea Ma Cialanoglu Non può Oggi è uno dei migliori Centrocampisti Al di là dei nove gol Che ha segnato Di cui sette su rigore È uno dei migliori Centrocampisti Del nostro campionato Era un giocatore Perché poi Fra l'altro Inzaghi Nota di merito Lo ha trasformato In regista Di centrocampo Quindi Quindi Anche queste scelte Tattiche Hanno consentito All'Inter Di potenziarsi Proprio A centrocampo A scapito Del Milan Che ha fatto Delle valutazioni Ritardate Criticate E criticabili Fabio L'Inter Sta adottando Questa Tattica Del colpire Giocatori A parametro zero Con una media Di età alta Tattica Che però Per ora Sembra essere vincente Come tutte le strategie Anche questa Ha i suoi pro E i suoi conto Poi è chiaro Che dipende Da come la interpreti In questo momento Ben interpretata Da due Super professionisti Del settore Come Marotta Eusilio Sta portando Dei grandi risultati Tra i vantaggi Ci puoi mettere Quello di avere Una squadra Pronta Con giocatori Esperti Subito pronti A partire A giocare A titolare A prendersi Le responsabilità Tanto che In una squadra Come l'Inter Uno come frattesi Che gioca Nella nazionale italiana Fa la riserva Riserva di qualità Finché vogliamo Il futuro è suo Poi con tutte le partite Che ci sono comunque A mastrino Avrà spazio Tutto quello che vogliamo Però di fatto Non è un titolare Eppure è uno Che sarebbe titolare In tutte le altre squadre Di Serie A Il rovescio Della medaglia E' che poi E' vero Che questo ti Permette di fare La squadra Con un esborso minore E visti La situazione Societaria Finanziaria Dell'Inter Questo è un asset Importante E' anche vero Che la controindicazione Nel medio periodo E' che vai ad alzare Di molto Il monte ingaggi Perché è chiaro Che questi giocatori Li prendi a parametro zero Offrendogli Un ingaggio maggiore 3 milioni 4 milioni Adesso tu hai Infierito Su Tiziano Ricordandogli Il caso Taremi C'è anche il caso Turam Giocatore che era Già stato annunciato Quasi al Milan Dopodiché Per un ingaggio Superiore Vero tutto quello che vuoi Ma è Cialanoglu Che è proprio Sì ma per carità Cialanoglu D'accordo Fabio 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 Lascia di servire Turam Era già a due anni Che era dell'Inter L'avevano già preso L'anno prima Sì poi si fece male Si rompe il crociato Io te lo dico Perché il Padre L'ha avuto come giocatore Lo vedo a Parigi L'esempio Turami Il Milan l'ha trattato Poi le voci riportano Che alla fine c'è stato Un rilancio Da parte dell'Inter Sull'ingaggio Proprio contando sul fatto Che il giocatore Era a parametro zero Ora questo significa Non tanto Non solo Riconoscere Ingaggi alti A questi giocatori Per allettarli E portarteli in squadra Ma poi anche Un effetto domino Perché arrivando Giocatori con gli ingaggi alti I giocatori Che è già in squadra Ti dicono Beh io chi sono Il figlio della serva E' chiaro che poi Vanno a bussare a rinnovo Quindi Da una parte Risparmi Le cifre Importanti Sulla spesa Del giocatore Dall'altra Poi nel medio Lungo periodo Ti alzi di molto Il monte ingaggi Di tutti i giocatori E questo Fabio E' giusto perché Influisce sul gruppo Ma ha vincito Un caso gramoroso E' stato comprato Dal Napoli Un giocatore Da Sainitana Che prende Due milioni e mezzo Il Georgiano Prende un milione Fa casino Ecco perché Il procuratore Del Georgiano Comincia a sbraitare A dire eccetera Queste sono le cose Che in un gruppo Non si possono fare Bisogna prestare La massima attenzione Altrimenti Si frattura Proprio Il discorso E' chiaro che poi E' un equilibrio La bravura Di Marotti E di Ausilio Sta anche nel Riuscire a gestire Questa cosa Tenendola in equilibrio E fanno i professionisti In quel campo Mica per niente Gianluca In chiave Derby In chiave Lotta Scudetto In realtà Stiamo parlando Di due acquisti Che dovrebbero arrivare A fine anno Quindi che non andrebbero A impassare In questa Interno Nello Scudetto Però Ti preoccupa La situazione Inter Vedendo quanto Sta facendo bene In questo momento No beh Certo E' sempre stata La squadra Favorita A mio modo di vedere Dall'inizio del campionato Per vincere lo Scudetto Detto questo Come si ricordava Prima Ovviamente In buonissima fede Gode anche Lungono i titoli Di coda Gode anche Di qualche aiutino Che capita Perché sicuramente La squadra più forte Eccetera eccetera Però qualche aiutino Netto C'è sempre Quindi certo Ma noi possiamo Vincere lo Scudetto Va beh